Ho detto cioccolato, detto cioccolato, detto cioccolato Non vuoi il mio Perché mi guardi così? No, no, no Ragazzi, aiutatemi E ora andremo a fare Danza classica Baby sitter Che stai facendo con quella? Perché hai una schiuma da barba qui? Nel reparto dello slime? Perché si utilizza per fare il fluffy slime Lo slime quello morbido Ti posso fare la barba? No, non ci pensare neanche No, 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 no È molto divertente No, no, no Non voglio quella schiuma sulla mia faccia Io te la metto No Poi tu mi dai la metta E io te la metto No, no, no Ha detto la metta Ma che pazza No, no, no Non voglio fare la barba Sofì Oh, ma già la barba fatta Hai visto? Non ho barba Dov'è? Oh, no, no Guarda, hai visto? Io non ho barba Quindi non si può fare la barba Una persona Io non la vedo che ce l'hai Perché si vede con nascondere Devo scappare E cosa devo fare con questa schiuma? Eh, io sto Un, due, tre Stella Ok, non ti muovere Ragazzi, forse ho trovato una strategia Sofì, bambina, vuole sempre giocare Adesso la faremo giocare Se io dico un, due, tre, Stella Lei non si muove Rimane ferma e imbambolata E io sono libero da lei Quindi, continuiamo a giocare Mi raccomando Stai ferma Non ti muovere Rimani così Brava Stai lì Perfetto E nel frattempo E nel frattempo Io mi metto sul divano E mi riposo Ecco qui Che prendo l'elfanta fiabbe E ci rilassiamo un po' Ah Mi raccomando Non ti muovere Perché io ti sto tenendo d'occhio Sto controllando Che non faccia neanche un basso E il signor babysitting? Eh, babysitter al massimo Sì, dimmi Non è vero Non mi stai controllando Non è un gioco No, no, no Ti sto controllando Infatti Adesso conto di nuovo Un Due Tre Stella Ah Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Che ho vinto? Ho vinto io Perché ho fatto stella Va bene Adesso Ci laviamo la faccia Ci laviamo le mani E tu Ti metti a studiare Hai capito signorinella? Il babysitter Ho ordinato Che devo fare i compiti ora Io non prendo Ordini da te E invece sì Perché sono il babysitter Ok Ok Quindi Alza i tacchi E vai a lavarti le mani Posso mettermi i tacchi? No Non devi metterti i tacchi È un modo di dire Significa che devi alzare Il tacco del piede Ma io non ho nessun tacco Eh Vabbè Vabbè Niente Non alzare nessun tacco Semplicemente Vatti a lavare le mani Per favore Con le buone maniere Si ottiene sempre tutto Con le buone maniere Non mi prendi in giro E non ti stavo prendendo in giro Rieccomi ragazzi Scusate Mi ero andato a lavare la faccia Per togliermi quella schiuma Da barba appiccicosa Ma che sta combinando Sofì Ti stai ancora lavando le mani Che sta succedendo qui? Io no Dove sei finita? Chiudi l'acqua Chiudi l'acqua Che stai combinando? Sto facendo il bagnetto a Chireray Ma non devi fare il bagnetto a Chireray Erano tutti sporchi Pieni di fango E io li sto lavando In una vasca piena di schiuma Guarda qua Non è il momento Non adesso Guarda quanta schiuma Te la soffio? Te la soffio? Non lo fare Non lo fare No no Via 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 con la schiuma E' meravigliosa Grazie baby sitter Che mi fai fare tutto questo Stai facendo volare la schiuma ovunque Wow 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 Il salto di Chireray Wow Adesso dove sono veniti Li devo cercare Devo fare un sacco di cose No 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 Aspetta Aspetta Fai così Guarda Togliamo il chiusino Così si svuota la piscina Vedi? Si sta svuotando Sono tutto Sei un mostro Non sono un mostro Sono il tuo baby sitter Che ti deve fare studiare E adesso che combina? Che stai facendo? Che stai facendo? La schiuma non si mangia Non te l'hanno insegnato? Sono Babbo Natale Non sei Babbo Natale Con sta schiuma in faccia Sono Babbo Natale Non è vero Togliti la schiuma Pulisci la faccia Pulisci le mani E svuota tutta quella schiuma Lo faccio soltanto perché mi va Brava Dai ti lascio lavare tutto per bene È proprio una peste Ragazzi non avevo mai avuto a che fare Con una bambina così pazza Meglio che preparo qualcosa per studiare Prendo dei fogli Così può fare i compiti Guarda cosa ho portato Dei fogli E dei colori Per poter scrivere Io adesso ti lascerò una consegna Che è molto semplice Che sarà quella Di scrivere e colorare In questi fogli Tutte le lettere dell'alfabeto Ok Hai già la penna? No Quindi tieni questa penna Intanto io dovrei darti anche un foglio Non ho la penna Non hai la penna Eh va bene Allora tieni il foglio Colore quale preferisci? Rosso Ecco qua E il foglio dove hai tenuto? Non ho il foglio Va bene Allora aspetta Tieni qua il foglio Ma adesso non ho la penna Ma ti avevo dato la penna rossa? No ma me l'hai data Ok vabbè Allora tieni questa verde Perché quella rossa non la trovo più Ma volevo rossa Guarda C'ho un'altra penna rossa Tieni questa qui Va bene Ma dove scrivo? Non ho un foglio Ma la bevi il foglio Va bene Tieni un foglio Ok qua è il foglio Senti Non ho né foglio né penna Vabbè Allora ti do due penne E ti do l'ultimo foglio Questo è l'ultimo foglio Non ne ho più Perché se butti anche via questo Io non c'ho più fogli da darti Non puoi fare più i compiti Ok adesso ho il foglio Non trovo la penna Quindi faccio un origamo Ma che origami? Non piegare quel foglio Tu sai fare la barchetta? Io so farla Se vuoi te ne faccio una No non voglio fatta la barchetta Non mi interessa Non mi interessa Dove sono i fogli? Dove sono le penne? Dove le hai messe? Dove le hai nascoste? Non ci sono Le buttate qui dentro? Sono sparite Preferisci barchetta o paperella? Guarda preferisco quello che vuoi Basta che stai buona E calma lì sul tavolo E non ti alzi Barchetta fatta Finita Guarda ti faccio questo regalo Ti regalo in dono questa barchetta E tu mi lasci fare lo slime Tranquilla Senza studiare Ok? Affare fatto? Guarda non me ne faccio niente La tua barchetta Mi lasciare fare lo slime? Va bene Va bene Basta che non piangi Sono così buona io Non piango mai Sei proprio una santa Adesso potrei fare il mio slime? Sì vai Prendi pure tutti Guardate qui cosa c'è Tutte le penne e tutti i fogli E comunque ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al nostro canale Perché se vi piace questa serie Con Sofì e bambina Continuerà presto con altri video Intanto vi annuncio Che già da domani Inizierà una nuovissima serie Qui sul canale Con però Sofì adulta E niente bambina che urla E ora cliccate qui Per vedere i video di ieri Mentre qui per vedere Un altro video divertentissimo Noi vi mandiamo un bacio Un abbraccio Ci vediamo domani Con unissima avventura Ciao Ciao